Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay.it Il mondo sta facendo vedere Elden Ring e lo voglio fare anch'io, lo voglio fare da completo profano perché mi sono avvicinato a questo gioco, l'ho acquistato alla data d'uscita ma l'ho giocato da completo neofita, nel senso che io avevo seguito dei video guida su il primo Dark Souls, la Remastered Edition e fondamentalmente ho capito una cosa che voglio trasmettere anche a voi qui questo gioco non è difficile, non è neanche bastardo cattivo insomma richiede un livello di bravura che se siete in grado di raggiungerlo il gioco vi sembrerà facile o comunque avrà sempre quel livello di sfida che però non vi farà sbroccare, non vi farà rompere il pad sulla scrivania ma se non siete in grado di pareggiare con la vostra bravura la difficoltà del gioco lo mollerete, cosa che hanno fatto tantissimo basta vedere che pochissimi, 0,70-0,80% dei giocatori hanno finito il gioco o è vero, è passato pochissimo tempo comunque voglio farvi vedere, voglio parlarvi un attimino di quello che ho avuto modo di sperimentare di quello che ho scoperto e delle mie considerazioni su questo titolo il titolo è giocabile con il pad, altamente consigliato e devo dire che anche per un appassionato della mouse e tastiera come me mouse e tastiera sempre e comunque lo ritengo assolutamente indispensabile è un gioco che ha aggiunto tante cose tra cui una mappa una mappa, guardate e dite all'inizio inizierete con questa porzione qui questa qui è più o meno così senza questa parte della foria è tutta qui no, in realtà enorme, enorme, gigantesca la mappa quindi ecco la cosa che spiazza di più è che sul tubo, così come ogni contenuto ogni piattaforma di intrattenimento con video su ogni piattaforma troverete video che vi spiegheranno le più imprecisate cose riguardo questo titolo nel senso di luoghi nascosti ad esempio io vago qui ma pensate non so vago e non so che di dietro c'è un corridoio che non avevo visto che porta una caverna che apre tutta una parte di mappa ecco questo è Dark Souls questo è Elden Ring quindi dovete abituarvi a questo così come anche assistete dei video che vi dicono ad esempio ipotizziamo adesso ipotizzo se tu inizi da qui e corri in questa direzione trovi un forziere il forziere è una trappola che te le trasporta qui e se da qui con nemici improponibili a livello 1 corri scappi e vai fino a qui trovi un potenziamento molto importante che ti consente di fare tutta questa zona easy ma tu che ne sai mai ti verrebbe in mente di andare lì e questo gioco vi spinge a superare quelli che sono i vostri limiti imparare a giocare bene a questo gioco è soddisfazione per voi e voi stessi basta questo è in sintesi il riassunto della della mia esperienza qui è un gioco che ha tantissime tantissimi dettagli per quanto sia molto meno legnoso dei vecchi Dark Souls si può finalmente saltare si può attaccare appunto in salto cosa che si poteva fare anche sul primo Dark Souls ma con una combo abbastanza complicata si può andare in qualsiasi momento nei punti scoperti nei vari falò teletrasportarsi e iniziare questo è meno frustrante rispetto all'andare e scoprire tutto e camminando ogni volta uccidendo tutti i nemici un'altra cosa che voglio farvi vedere molto interessante è che ci sono questi forti e questa è una cosa molto positiva perché secondo me il gioco è a lungo andare più semplice rispetto ai Souls se vedete questa fortezza questa fortezza io l'ho affrontata ho battuto tutti i nemici un grande surplus che ha questo titolo il fatto che quando uccidete tutti i nemici di una area ben circoscritta che può essere un accampamento o appunto una fortezza così vi si rigenerano le fiaschette della vita e quindi li capite che avete finito la zona ma se dormite un falò cioè vi riposate un falò che qua si chiamano grazie si rigenerano tutti tranne tranne in queste fortezze dove vedete lì in alto c'era anche una ballista che ho distrutto qua potete recuperare oggetti di crafting e ci potete accedere di nuovo senza problemi non che ci sia niente di importante dentro però è una soddisfazione perché qua dentro poi non troverete più nessuno potete tornarci magari per esplorare in modo più approfondito ci ho messo un po' a farla a dir la verità ma fondamentalmente c'è una costante in questi titoli quando andate di fretta anche il nemico più insulso e debole vi percuote questa è la massima che sto imparando ad apprezzare di questo titolo ci sono un sacco di cose che io apprezzo tanto tipo quando entrate in un dungeon e vedete magari le candele quasi esaurite appese alle finestre che illuminano l'ambiente e così via e una delle altre cose importanti del titolo è il fatto che quando vi troverete magari a guardare gente che gioca e vede dei boss enormi se vi prendete male dite no io quello lì non lo voglio affrontare no che tensione lasciate perdere perché non è il gioco che fa per voi il gioco ha anche una componente stealth che potete utilizzare per muovervi alle spalle dei nemici non in questo caso ovviamente però vedete che io adesso ne traghietto uno e cerco di prenderla con calma con il salto così vedete io adesso l'ho fatta un po' avventata e ho perso un pochino di vita però lo scudo è sempre importantissimo perché perché lui ora cambierà l'arma e mi attaccherà forse ma non è neanche detto perché no continua persevera con la balestra quindi in questo caso io lo percuoto rudemente e ottengo anche le sue le sue non si chiamano più anime ma arune a volte a volte mostri i nemici rilasceranno del loot questo loot si rigenera quindi nulla vi vieta di farmare anche i nemici e ora voglio farvi vedere appunto questa parte qua questa parte qua pensate io ci sono finito qua per caso quando ero ancora di livello ora non sono altissimo sono di 23 sono arrivato qua che ero forse di livello 15 sono arrivato in questa zona e sappiate che tutto quello che in questi giochi è l'ignoto l'ignoto probabilmente vi uccide alla morte potete rinascere o a una grazia o a una di queste statue qui quando le trovate potete scegliere dove ripartire ripartirete ovviamente senza le vostre rune avete anche anime che vedete in basso a destra e per livellare ve ne servono un botto sempre di più quindi in questo caso 3600 per livellare quindi praticamente il doppio di quelle che ho ora vi dicevo sono finito qui mi sono ritrovato contro questo boss è ovvio che se trovate una cosa di questo tipo c'è qualcosa che non va insomma e capite che qua durerete ben poco una cosa che viene in vostro aiuto è la possibilità di evocare ma non credo in questo caso evocare dei upa evocare dei compagni adesso aspettate che mi curo e poi muoio perché questo è veramente tosto come nemico infatti vedete che sono partito malissimo e morirete a nastro come morirò io ora potete anche in alcuni casi evocare il vostro cavallo e utilizzarlo una cosa importante è che nel gioco e questo è importante in gioco potete parare io adesso l'ho fatto ma sono tranquillissimo sono morto ma sono tranquillo questo è l'atteggiamento giusto secondo me per affrontare il gioco e cercare di migliorarvi ogni volta soprattutto quando magari avete fatto l'esperienza su Dark Souls dove seguendo le guide avete scoperto che i nemici che magari avevate provato in passato le prime volte che giocavate al gioco sembravano insormontabili ora insomma sono affrontabilissimi con la giusta tecnica in questo caso ve li trovo recuperati le mie anime qua fuori è stato magnanimo il gioco ci sono dei casi in cui invece affrontate i boss e potete evocare dei degli aiuti tutti consigliano di usarli ma una cosa che volevo farvi vedere che è una meccanica che spesso si trascura infatti tante volte magari iniziate a giocare ricominciate a giocare e non ci pensate fate caso che potete parare potete deviare e potete rotolare saltare fare l'attacco in salto sono tutte cose che dovete sempre tenere a mente quando attaccate qualcosa io premetto non vi voglio insegnare niente perché sono un neofita però voglio darvi il parere che può essere magari interessante per qualcuno di uno che non ci ha mai giocato la cosa interessante quando voi parate la parata vi dà sempre un ottimo risultato nel senso che para qualsiasi sia il colpo vi porterà via più o meno stamina ma nel momento in cui parate il colpo vedete mi ha fatto questo effetto e io gli ho dato una bella ramazzata ovviamente con la giusta pazienza al giusto tempo potete giocare in questo modo contro questo boss parare e ricolpirlo e pian piano togliere tutta la vita con immensa pazienza questo è un boss che non so che cosa mi regalerà alla sua sconfitta ma sicuramente mi regalerà qualcosa che potrà rendermi più forte qui io ora potrei aspettare di diventare più forte o potrei buttarmi giù e ritentarlo volta dopo volta cercando di migliorare attacco dopo attacco un'altra cosa che voglio farvi vedere qui questo c'è un villaggio che potrebbe essere un buon farming di Erune e ripeto troverete centinaia di video in italiano in inglese di suggerimenti su come fare su come affrontare il gioco con cose che magari non scoprirete mai voi stessi ovviamente questo dipende molto dalla soddisfazione che volete trarre dal gioco cioè se vi da soddisfazione ottenere magari quell'indizio che vi consente di giocare andare avanti e vi facilita la vita fatelo se volete essere dei completazionisti e farvi tutto per conto vostro non seguite nessuno di questi suggerimenti comunque ora vi faccio vedere io spiano il primo ormai le anime che mi danno sono pochissime potete evocare vedete sulla sinistra c'è quel simbolo di quella tomba in quel caso potete evocare una di queste creature che avete sbloccato io adesso ne ho diverse le andiamo a vedere nell'inventario non mi ricordo dove sono devo andare sull'occupaggiamento qua vedete potete posizionarle ne ho diverse ho i lupi ho la medusa ho il cane andaggio molto importante e chi se ne intende un po' del gioco saprà anche dove l'ho preso avete il nobile stregone questo l'ho tenuto uccidendo un boss mi pare e qua i nobili viandanti che attaccano non saranno molto importanti molto forti contro i boss grossi perché alla fine alla fine cadranno dopo pochi colpi ma creeranno un diversi distraranno un nemico in questo caso evoco questo evoco i miei compagni qui vedete io adesso li evoco e mi danno una mano quindi assaltiamo il adesso vedete che no questo qui quando suonano la tromba arrivano tutti poi vi incastrate come ho fatto adesso e finisce in vacca tutto vedete che adesso loro se la stanno prendendo con quello più forte io mi prendo l'altro ne approfitto dato che è una spada molto lunga per attaccarne più di uno ora bevo e uso quella vecchia tattica dell'attacco imparata quindi io paro e controattacco ma glielo manco cioè dovete essere bravi cosa che io non sono ancora purtroppo ho iniziato a cavare prima a prenderla più con sangue freddo quando vado in zone nuove quello devo ammetterlo ma non sono ancora vedete adesso controattacco questo è forte questo non è non è intanto gli altri stanno magari combattendo contro i nemici adesso adesso io ho fatto un errore perché sono rimasto senza stamina quella è una cosa sempre da guardare e ho finito le ampolle sicuramente sono conscio del fatto che quando avrò ucciso questo sarà sicuramente tutta discesa per me se attaccate subito dopo aver subito il colpo potrete fare il controattacco però adesso io la pago carissima e muoio perdendo tutte le rune che avevo ovviamente ripartirò dalle zone più dalla zona lì vicino la la statua o la la grazia ovviamente adesso ho scelto la statua e non so perché comunque adesso non ricordo dovrei andare a recuperarmi le anime le anime credo sia siamo partiti da là in fondo il panorama è stupendo gli effetti di luce sono bellissimi e sulla mappa viene indicato l'ultima posizione delle vostre rune ovviamente il gioco non vi suggerisce dove potete e dove non potete andare nel senso che pensate che addirittura io qua nella mappa sono finito in una zona sotterranea vedete questa è un'altra zona di livello alto e ci sono finito per caso ho trovato un ascensore ci sono andato mi sono trovato questo posto bellissimo sarà stato forse un chilometro o due sotto terra c'è stato proprio un minuto buono di discesa sull'ascensore e sono andato lì ho visto subito dando due colpi nemici che non erano proprio debolissimi e quindi va bene quello che ho fatto prima voi direte allora potreste dire due cose in realtà potreste dire o sei scarso oppure i nemici qui sono fortissimi no l'ho semplicemente presa male ho preso l'affrontare questa zona in modo totalmente sbagliato perché bisogna mettere una cura all'interno di tutte le esplorazioni all'interno di tutte le le ispezioni una cura di un certo tipo nel senso bisogna guardare le ronde bisogna capire ovviamente non ha senso che io questo livello faccia questa zona perché non mi danno molto però io me ne sto nascosto e pian piano li elimino tutti uno dietro l'altro e la storia cambia ci vuole sempre questa mentalità poi se io sono pirla e non mi accorgo che un tizio mi ha seguito e soprattutto quello di prima ha suonato la tromba adesso questo ha sentito arrivano anche gli amichetti quindi me la prendo con calma tanto qua non dovrebbe esserci quello con la tromba quindi vediamo se riesco ad affrontarli allora io paro eh sì mamma mia che botte che danno sti qua e già adesso non l'ho presa proprio benissimo perché non vedete va presa con calma e senza fretta e già adesso sto correndo troppo per i termini di questo gioco infatti dovete esplorare con calma io questa zona la conosco bene ma sicuramente all'interno di questa zona c'è sicuramente un anfratto che non che non ho mai visto allora lì c'è la guardia quella bella grossa quindi in questo caso potrei aspettare e farmi un giro andare qua sotto ed eliminare qualcun altro ovviamente questa è una scena vista e rivista all'interno dei video sul tubo la risposta boom boom via fine con oggetto lutabile pietra da forgiatura che è utilissima perché mi serve per potenziare un le armi e me ne serviva appunto forse più di una più di 4 me ne servono adesso adesso questi due nemici non è che siano proprio semplicissimi perché potete scappare se proprio non vi non vi aggrada la cosa potete scappare o meglio ancora potete fare l'evocazione o potete evocare il vostro fido destriero con cui poi andrete a caricare e a suonarle al vostro socio e poi fate male vi fate male come faccio io lo disevocate lo rievocate insomma potete fare tutto quello che volete allora adesso beviamo la bibitina e adesso gli diamo una ammazzata di nuovo ok diamolo anche a questo ok ops e non si può caricare più di tanto quindi bisogna ricaricare la stamina ok bevutina bevutina di nuovo sto giocando proprio malissimo ok ancora una ok uno dei problemi maggiori è finito ora se io finissi tutti vabbè o torno a una grazia e riposte o nel caso in cui fosse una zona nuova uccido tutti e mi si rigenerano ovviamente poi nulla vi vieta di 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 esplorare bene e di pensare giustamente che ogni zona che presenta un villaggio come questo nasconda qualcosa perché ovviamente questo è l'unico spoiler che vi faccio quando arriverete alla fine vedete adesso non ho più ampolle non posso più berne non ne ho più nasconde qualcosa tipo questo non ci sono boss ma ci sono cose interessanti all'interno quindi questo è un indizio che vi do insomma su quello che potete fare io poi ho fatto il confessore quindi sono ho anche degli incantesimi potrei andare a finire questo contraattacco importantissimo lui cade gli do i due colpi che gli mancano a cadere ora c'è questo che suona la tromba ma in realtà non è che sia rimasto molta gente quindi diciamo che poniamo fine alle sue sofferenze vediamo chi è arrivato anche questi due sono arrivati tre sono arrivati potrei essere un po' nella merda quindi potrei anche evocare i lupi in questo caso che mi danno una mano vedete che il gioco vi aiuta non è che sia totalmente contro di voi adesso i lupi stanno agendo vedete che mi stanno dando una grossa mano e questo li potete usare anche durante le boss fight poi sono scarso perché non punto il nemico no 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 e di spalle fine grandi lupi non abbiamo ancora finito perché c'è ancora quello e quello sembra ben armato io però ho l'incantesimo di cura urgente che uso subito e li curo cioè ho tutte le mie armi tutte le mie adesso attacco contraattacco boom via botta e se ne va anche lui ora vedete che ho rigenerato le ampolle non ne ho rigenerate tutte non so perché probabilmente perché sono di livello alto qui comunque ne ho rigenerate tre ciò sta a significare che io ho finito la zona questa è una poi ovviamente il gioco non vi dice dove andare a parte queste diciamo queste onde gialle che vi danno una direzione o all'inizio dovete leggervi i dialoghi vi dicono dove dovete andare tipo qua ma nulla vi vieta di esplorarvi la zona una cosa molto utile non sapete se la zona che state affrontando sia giusta per voi ok o lo sperimentate sulla vostra pelle vi fate un'esperienza empirica su questa cosa oppure in internet scrivete Elden Ring Level Map e quella vi uscirà una mappa con tutte le varie zone e il livello consigliato fine ovvio il livello consigliato vale fino a un certo punto perché se livellate male un personaggio potete essere di livello 50 ma con specifiche sbagliate in base a quello che volete fare tipo potenziate intelligenza e tutto avete intelligenza e fede ma combattete con la spada avete una vita breve nel senso di pochi punti vita ok avete belle difese però non siete un livello 50 quindi livello indicativo se fatto con criteri insomma questo è Elden Ring ho voluto proprio giusto fare un video non c'entra nulla con gli indie è un gioco che ha creato un genere a sé e spero possa essere utile magari ad alcuni di voi magari neofiti come me di questo gioco per farvi un'idea vi dico solo questo io adesso mi dispiace aver dato la prova di essere comunque morto di aver fatto qualche minchiata di troppo però vi fa capire anche quanto dovete essere concentrati infatti quando non ho un microfono davanti una registrazione in corso ma gioco da solo mi risulta mi viene molto meglio ecco insomma un'altra cosa potete acquistare un kit di creazione e quindi andare a sbloccare man mano varie cose con la creazione oggetti potete andare a crearvi cose usando materiali che recuperate in giro ne recupererete un bot poi potete lasciarli nel forziere delle scorte alla lo chiamo falò ma in realtà è la grazia e ricordatevi sempre che il gioco non sempre vi obbliga ad affrontare qualcuno qualcosa come ad esempio vi do un piccolissimo indizio ecco perché quelli lì sono mostri forti all'inizio poi quando imparate la tecnica avete armi buone questa è un'arma che comunque è a due mani andrebbe usata a due mani ma avendo livellato la forza posso usarla a una mano sola e quindi sfruttare il mio scuro ovvio ci sono mille mille altre armi che potete usare infatti non è l'arma proprio del confessore questa ma ho improntato tutto su questa arma per il momento e tra l'altro potete andare anche come potete vedere qua mi da vassallo sanguinario mi da più uno poi avete delle abilità che potete affidare all'arma quindi quando lo usate a due mani potete usare questa abilità vedete di sangue che vi permette di spendendo punti mana di fare del male ed è il nome che poi viene dato anche all'arma sono abilità associabili ad armi e armature e li potete togliere e rimettere come volete vi consumano a differenza della potenza dell'incantesimo più o meno lo chiamo mana ma in realtà non dovrebbe chiamarsi mana ma è adesso non mi ricordo come si chiama vigo no pia pia punti azione insomma una roba del genere che ho finito adesso quindi queste sono le mie statistiche come ho livellato finora anche gli attributi del confessore fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate del gioco se questo video vi ha fatto magari cambiare idea vi ha intrigato vi ha fatto venire voglia di provarlo o se continuate ad essere magari della vostra idea io lo apprezzo non so dirvi onestamente se arriverò mai alla fine sicuramente avendo portato in live un dragon's dogma dragon's dogma è un gioco di ruolo anche lui come questo ma più fantasy più semplice da un lato senz'altro affrontare questo gioco fino alla fine o buona parte potrebbe potrebbe darvi una facilitazione maggiore nell'affrontare giochi di diverso tipo diversi da questo sempre giochi comunque difficili e farvi accettare meglio secondo me anche la sconfitta attendo i vostri pareri qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti